Valmar presenta il conserva formaggio, il sacchetto che mantiene la prima fetta sempre fresca. Lo sapevi che avvolgere il formaggio con il foglio di alluminio è sconsigliato? L'alluminio, a contatto con alimenti acidi e salati, potrebbe rilasciare sostanze metalliche dannose per la salute. Lo sapevi che avvolgere il formaggio nella pellicola fa proliferare le muffe? La pellicola per alimenti non lascia respirare il formaggio, i fermenti lattici muoiono e si genera così la muffa. Lo stesso accade se conserviamo il formaggio nei contenitori ermetici o nelle buste di plastica. Il formaggio si secca, invece, se si avvolge in un semplice tessuto. Non c'è alternativa? Invece sì, grazie al doppio strato di puro cotone e alla speciale pellicola traspirante del conserva formaggio, l'unico brevettato. Solo in questo modo la prima fetta non la butti più e non hai più sprechi. Con il conserva formaggio la prima fetta è sempre fresca. Il sacchetto conserva a lungo il gusto dei formaggi stagionati, perché sa come regolare la giusta traspirazione di questo alimento vivo. Mettilo in frigo senza timori. Il sacchetto conserva a formaggio non lascia entrare gli odori. Disponibile in diversi colori e fantasie su conservaformaggio.com Il sacchetto conserva a formaggio non lascia entrare gli odori. Il sacchetto conserva a formaggio non lascia entrare gli odori.